Abbiamo dei più antichi, fedeli, fraterni, amici di Eugenio, potrebbe parlare di Eugenio per ore, lo staremmo volentieri, non ad ascoltare, ma non tocca volentieri, sono due relatori che devono, mi tocca parlare con lei, agli eri di Eugenio, Giovanni Filora, il nostro territorino e Giannullino Mazzucco, il nostro territorino, e direi a inseguire questo ordine, se siete d'accordo, darei la parola a Giovanni Filora. Grazie, è per me un piacere e un onore poter partecipare a questo omaggio. Io qui rappresento, se così posso dire, anche la voce dal basso, perché sono stato, certamente Corsini non si ricorderà, sono stato allievo, ho conosciuto, sono Corsini in anni ormai lontani, quando come studente iscritto a lettere classiche, nella loro facoltà di lettere e filosofia, ho avuto la possibilità di seguire i suoi corsi di filologia bizantina, di cui era all'epoca, si ricorda, di cui era all'epoca docente, incaricata. Corsini meniva dall'aver pubblicato nel 1962 un lavoro filologico importante nella collana della facoltà di lettere e filosofia in trattato dei divinis nominibus dell'Oceo di Dionigi e dei commenti neoplatonici al Farmenide, che era stato preceduto qualche anno prima, nel 1958, dalla memoria pubblicata negli atti dell'Accademia delle Scienze di Torino, la questione aeropagitica contributi alla cronologia dell'Oceo di Dionigi. In questo lavoro del 1962, attraverso un'analisi comparata, minuziosa e persuasiva di una serie di passi del trattato dell'Oceo di Dionigi con passi del Farmenide di Platone, lo scritto cristiano veniva inserito nella lunga tradizione esegentica del Farmenide, colunitante nel commento di Proplo, da cui l'Oceo di Dionigi sarebbe ripeso attraverso la mediazione di Siriano su punti decisivi. Ho provato a riprendere in mano, per questa circostanza, il volume di Corsini che possedevo che all'epoca si studiava come il testo dell'esame, e l'ho ritrovato con lo spasso di grosse punti interrogativi, punti esclamativi, dubbi, commenti, che testimoniano non tanto non solo l'attenzione con cui avevo cercato di studiare, quanto piuttosto il cammino arduo che allora lo studente doveva percorrere per ascendere a quella impervia detta. Eppure è un cammino fruttuoso. Attraverso le lezioni di Corsini mi si rivelava per la prima volta quel mondo complesso e affascinante dei rapporti tra il pensiero dei badri e la tradizione platonica, che poi a mio modo cercai di affrontare immergendomi nel mondo dell'agnosi. E su questo sono anche profondamente grato Corsini per un'altra opera fondamentale, che forse si cita meno, ma che è un'opera veramente importante, e cioè la sua traduzione con ampia introduzione e commento del primo testo di commento a un Vangelo dell'ognostico Eracleone in commento al Vangelo di Giovanni, che noi conosciamo attraverso la rifutazione che mi dice di grande origine. Ebbene, quel testo è un lavoro assolutamente eccellente che dava difficile sia per la situazione filologica del testo, sia perché poneva complicati problemi di interpretazione, sia per la traduzione. E il lavoro di Corsini fu all'epoca veramente un modello e un esempio per cui poi doveva lavorare in questa direzione. E aggiungo che siccome questo campo degli studi gnostici in questo periodo è cambiato profondamente, l'interpretazione che viene possibile di questo rapporto Eracleone, origine, testo biblico, rimane di straordinaria attualità. Contrarsi allora un debito profondo con Corsini, con la sua acuta intelligenza, il suo rigore filologico, la sua capacità di penetrare nei meandri dei testi più difficili della tradizione patristica e di illuminare e rendere intelligibili materie oscure e difficili a un noerone inferiore come me, che in questo mondo attraverso il suo insegnamento, per rimanere a questo un momento, a questo linguaggio neoplatonico è stato iniziato alla contemplazione del mondo superiore dei noi. Io lascio alla collega Colmettina Mazzucca il compito di illustrare in modo più ampio la produzione scientifica di Corsini, perché è un compito che travalca le mie competenze. Io vorrei limitarmi nel tempo a disposizione a qualche considerazione relativa all'opera che ha maggiormente contribuito a far conoscere Corsini, anche attraverso le traduzioni, anche a un pubblico internazionale. Mi riferisco naturalmente, direi ai due libri sull'Apocalisse economica, perché rivisti in prospettiva sono poi due libri. Il primo è uscito nel 1980 con questo titolo un po' criptico, Apocalisse prima e dopo, e il secondo nel 2002 con il titolo di Apocalisse di Gesù Cristo secondo Giovanni, accompagnato da un'ampia introduzione in cui si dà conto delle critiche più rilevanti e che si giustificano i mutamenti più significativi apportati al commento. Come sapete, alla sua prima uscita invito sul sito vivaci commenti, numerose polemiche provocati dalla tesi controcorrente che Corsini mi sostengono. Come ricordava nella sua teleogettiva profazione il suo amico, come signor Pier Rossani, e cito, Eugenio Corsini come studioso è attratto particolarmente dalle cose difficili. Rossano, che conosceva bene l'autore, aveva naturalmente ragione. Che cosa di più arduo che provare a sfondare con argomenti comincienti una tesi secolare portata la legge dell'Apocalisse canonica come un testo apocalittico, e cioè un testo in cui si preannunciava la fine del mondo, la seconda apologia del Signore, gli eventi catastrofici che l'avrebbero preceduta e seguita, il giudizio finale e la vittoria dei giusti simbolizzata dalla discesa della Gerusalemme Celeste. Questa tesi su cui, da sponde opposte, finivano per convergere, l'interpretazione ecclesiastica tradizionale e quella storico-filologica, veniva da Corsini rovesciata come un guarno, con un gesto tanto semplice quanto odacico. L'Apocalisse di Gesù Cristo, secondo Giovanni, come chiarisce il titolo del secondo volume, è una rivelazione che ha Gesù Cristo come suo autore e nel contempo come suo contenuto, una rivelazione del mistero della storia nella sua totalità. E se non si riferisce dunque alla seconda venuta di Cristo dunque alla fine del mondo, bensì alla sua venuta perenne nella storia della salvezza. Questa venuta è incominciata con la creazione del mondo e dell'umanità, è proseguita nella vicenda storica del popolo italiano, è culminata nell'incarnazione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Ciò che racconta l'Apocalisse in modo allegorico è il dolore e l'orrore della passione e morte di Cristo e la gioia per la sua resurrezione. Due sono, mi sembra, i tratti essenziali di questa interpretazione. Il primo consiste nel recupero del significato originario del termine di Apocalipsis, disvelamento di Gesù Cristo e c'è del fatto che Gesù è il Cristo, preannunciato nell'Antico Testamento, che si è manifestato come un nuovo patto e si disvela progressivamente nella storia della Chiesa fino al compimento di tempo. Di conseguenza, messa in crisi della interpretazione dominante di tipo escatologico e millenarista, ma anche catastrofista, che accompagna la storia del termine Apocalisse in Occidente, a favore di una lettura in chiama di escatologia realizzata. Il secondo punto, che discende dal primo, è che non sia Roma, la Roma dominatrice corrotta, simbolo del potere politico, che si allea e strumentalizza quello religioso, rappresentato nei vari simboli negativi, bestia dal mare, bestia dalla terra, prostituta, farso profeta, il vero obiettivo polemico dello scritto. Ma la Gerusalemme infedele fedele al piano di Dio, è nemica dei profeti, e soprattutto il connubio nefasto, anzi demoniaco, tra potere politico corrotto, incarnato dall'impero romano, e potere religioso corrotto, incarnato dall'elettorità civile e religiosa e d'aria, il connubio mortale che ha appunto portato all'uscita di Gesù. Queste conclusioni sono portato e nel contempo contribuiscono a spiegare un aspetto metodicamente originale del libro, che privilegia attraverso una fine analisi letteraria il riferimento ai testi delle scritture ebranche, piuttosto che ricorrere, come tipico della maggior parte dei commenti, alle coeve apocalisse giudaiche. Per consigli, l'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, costituisce un punto di riferimento fisso di Giovanni. Nell'universo apparentemente fantastico dell'Apocalisse non esiste alcun simbolo, alcuna immagine, alcun elemento formale che non possa essere riportato direttamente o indirettamente a un fondo biblico o almeno alla tradizione giudaica presa nel suo insieme. A favorire questa interpretazione, come ne stesso preciso nella sua introduzione e come comprova una sua serie di sanzi, tra cui spicca quello relativo all'apasto in perpetuo, viene il richiamo alle interpretazioni cristiane successive, un altro tratto originale del libro, che lanessero per esempio in Africa, terra di martiri, non in chiave millenarista. Una tradizione, si è detto a passà, ripresa dal donatista Ticonio e che sta alla base del capolavoro di un altro autore, caro Corsini, come Agostino, e cioè la città di Diego. Mi limiterò a ricordare, visto che ho menzionato la traduzione del convento di Araclione Maggiore di Giovanni, l'importanza di Percorsini ha avuto, nel costruire questa chiave di lettura, l'interpretazione originale della visione del Logos, che scende dal cielo seduto su un cavallo bianco e avvolto in un mantello intriso di sangue, insieme a quella del convento di Ippolito, relativa alle sette teste della bestia su cui siete la prostituta. Di contro alla lettura storico-filologica, ma anche quella ecclesiastica, che tendono a leggere il dopo col prima, rinserendo l'Apocalisse giovanile nel contesto della letteratura apocalittica giudana coela, Corsini tende a rileggere il prima col dopo, e cioè alla luce delle successive letture dei cristiani della Grande Chiesa, mostrando come era andata definendosi l'essenzialità cristiana del testo, e non la Chiesa consolidata in comunità, capace di rileggere l'intera Bibbia alla luce di un lungo passato, che esse viveva in forma come Verus Israel. La novità della lettura di Corsini è dunque consistita nel re convinto il lettore contemporaneo del problema ermenentico dell'Apocalisse, esigeva che per comprenderla in modo adeguato si partisse da una visione non apocalittica in senso tradizionale, dal momento che, come stesso sintetizza nella chiusa del libro, e cito, la rivelazione di Gesù Cristo, cioè la sua presenza nella storia della salvezza, è perenni, in atto fin dalla creazione del mondo, e durerà fino alla fine del mondo, fine della citazione. Lo scopo del testo canonico è dunque quello di rivelare Gesù Cristo come il fine dell'Antico Testamento e di tutta l'Astonia, che fin dalla creazione lo prelude e lo attende. E l'ampice di contesti a rivelazione sono la sua morte e la sua risurrezione, che inaugurano un'età nuova, chiamando all'essere un popolo regale e sacerdotale. La morte e la risurrezione di Cristo sono così il cantus firmus di tutta l'Apocalisse, il tema illustrato, sviluppato, commentato in tutte le sue parti. Contrariamente a quello che alcuni figliosi di Bianna, non è ancora improverato, accusandolo in questo modo di voler demitizzare la visione tradizionale. Va detto, in modo di vedere, che si tratta invece di una lettura pienamente, tra virgolette, cattolica, nel senso che in una chiave, per certi aspetti, agostiniana, la chiesa dell'Apocalisse e la nuova Gerusalemme, che riprende e incorpora in sé, estendendoli a tutta l'umanità, i primi legi e l'amore che Dio aveva manifestato per l'antica Gerusalemme, chiamata nelle scritture la città amata. La nuova Gerusalemme non è una realtà che si colloca oltre la storia o che sarà organizzata dopo il ritorno di Cristo a sconfiggere i nemici suoi e dei suoi fidei. Essa è già, qui e ora, la nuova umanità che Gesù Cristo ha riscattato dalla schiavitù delle forze malvati. Questa demolizione dell'interpretazione messianico-revoluzionaria della Pagallisse non implica alcun atteggiamento quietista. Pensi, come un critico abbottamente osservato, un attivo impegno da parte del cristiano, ma aggiungerei anche da parte di cristiani, di chi cristiano non è, ad affrontare di conti individualmente e collettivamente il male e il disastro e a risorciare dopo le sconfitte anche catastrofiche, proprio perché non c'è da attendere alcun intervento apocalittico da parte di Dio e perché nella storia della salvezza, da parte di Dio tutto e con più, il futuro è affidato alle mani dell'uomo. Questo ruolo fondamentale dell'uomo è più alto, ma è meno consolatore delle terrificanti e vaghe sciamore che possiamo paccheggiare. Scusate, perché la loro tragedia inevitabile ci libera dalla nostra responsabilità e dal dovere di contrastare e confonde l'angosso per la nostra morte individuale nel robo universale. ripensando al ruolo centrale che questo testo avuto nella produzione scientifica e letterale di Corsini si è quasi inevitabilmente, avviando il tema di queste rapide osservazioni, condotti ad interrogarsi sui possibili motivi di questa centralità, in ciò indotti anche da alcuni decenni che quella l'autore ha fatto sulle radici lontane di questa sua passione. Nella introduzione al libro del 1980, Corsini descrive in una pagina mirabile il fascino misterioso che il libro, come un sacro fascinans e nel contempo tremendo, di cui sentiva dire, ma che non conosceva esercitò su di lui, permettetemi di citare. Me lo rappresentavo quindi come qualcosa che mi attirava e mi faceva paura al tempo stesso, qualcosa di simile a ciò che provavo quando mi mandavano a una certa sorgente a prendere l'acqua per i miei titori nelle canti giornate esterni. L'acqua sgorgava lì quasi al margine del sentiero, da un canarozzo fissato alla vella in legno con delle pietre. Gorgogliava con un rumore piacevole che variava a seconda dello stato, sabbia, terra, ciotto e altra, che incontrava nella caduta, ma la sorgente era posta più in alto, in un affrattio della noccia, sotto un intrigo inaccessibile di chiame, felici, grovo. L'assolto era scuro e ne avevo paura, eppure alle volte non resistevo alla voglia di spingermi un poco più avanti e percepivo, ma mi sembrava sempre più a monte, dove lo sguardo non arrivava, un gorgoglio più tenue, sonnesso, intermittente e rapidi barbandi tra le radici e il muschio al muovere delle frasi, improvvisi riflessi, trasparenze subito spente, fino a una macchia scurra dai fondi dove tutto, luce e suoni, finì. Mi sono permesso questa lunga citazione, avvolta dall'amara di una lichtung haiteggeriana, anche se siamo molto lontani dalle brume della foresta nera e dalle evocazioni di Plutum Bode, prima di tutto perché chi non fosse familiare con la splendida prosa del dottore, abbiamo soltanto per un momento un'idea della centralità che la dimensione letteraria ha per lui. Ma anche perché lasciando un terreno, come quello della literatura, a me non consono, questa citazione mi ha subito fatto venire in mente, un episodio analogo, occorso a un altro studioso, ben noto a Corsini, per il quale, come per lui, l'Apocalisse è stato il libro della vita. Penso a Eric Peterson. Peterson racconta, infatti, di aver scoperto il libro provistante da bambino nella soffitta, in un valore che conteneva i libri del Nord, tra cui la Bibbia, Tolle et Legge, l'occhio cade sull'Apocalisse e precisamente su quel capitolo 6 che descrive la terribile spedizione dei quattro cavalieri. Finito di leggere il capitolo, il bambino chiuso e terrorizzato il libro, con il senso di aver gettato uno sguardo discreto in un mistero tetaneo dove va in maniera. A differenza di Corsini, Peterson, che tenne dei corsi sull'Apocalisse, quando era ancora protestante e ritornò a conferenze successive e continuò a mantenere vivo il suo interesse verso il testo, non riuscì mai a pubblicare il commento per il quale dove c'è un contratto editoriale e che si apre e sta al capitolo 13. La frase di Corsini rimanda invece a un'esperienza diversa, felicemente produttiva, dove il fascino ha finito per provare sul tremendo. Con i suoi lavori sull'Apocalisse, rompendo secolari schemi interpretativi e scuotendo incrostate apatie, Corsini non solo ha offerto un esempio importante di come si devono analizzare letteraneamente e criticamente i testi antichi, ma ha anche offerto un'alta testimonianza dei messi profondi e misteriosi che nella ricerca autentica non separano ma legano profondamente vita e letteratura. Perché una ricerca autentica è a suo modo un Apocalisse. La rivelazione che la nostra esistenza umana di studiosi è caratterizzata per lo sforzo fino alla fine di comprendere il senso che essa può avere attraverso lo studio di esistenze paralleli di un passato più o meno lontano. Grazie.